Ciao, sto facendo le riprese. Ciao papà, guarda! Buongiorno signora Gemma. Allora, mi dica, questo primo settimana in Grecia, come sta andando? E allora, signor Aldo, un suo commento sulle vacanze greche, cos'ha da dire al riguardo? Il covid? Cos'ha detto signora Gemma? Benissimo, benissimo! Provo ad andare sott'acqua, vediamo. Eh? Beh, qui c'è uno schermino, però adesso che vado sott'acqua dovrei avere la maschera. Io adesso provo a immergerla e speriamo che vada tutto bene. Vado sott'acqua. Intanto ho inquadrato le gambe del papà. Sott'acqua. 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 Sott'acqua, mamma. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.